Salve a tutti ragazzi, sono Davide ed oggi andiamo a fare l'ultimo lending fino ai 300 dollari che vi avevo detto Allora, siamo arrivati ai 10.35 dollari nel lending wallet, andiamo a fare il reinvest direttamente Facciamo insomma tutto quanto Reinvest e mi faranno 0.35 dollari nel wallet Perfetto Allora, come potete vedere qui c'erano 290, adesso andrò ad aggiornarlo nuovamente Tac, 300 dollari nel wallet che mi andranno a produrre giornalmente circa i 3 dollari In questo momento ho fatto fino adesso 42 dollari e 49 centesimi solamente di investimenti... di soldi... mi viene la parola... maledizione... di soldi guadagnati dal mio investimento iniziale Quindi senza referral E niente, sono iper contento perché siamo arrivati finalmente a 300 dollari Adesso da oggi in poi inizierò a fare un video diciamo a settimana o ogni due... ogni due... un video ogni due giorni, tre giorni Per farvi vedere insomma come sta andando Bitconnect Vi voglio anche dire un'altra cosa Sono appena tornato da... da una ICO che era partita ma non sono riuscito a comprare niente Ucoin Cash E aveva aperto l'ICO alle 4 spaccate Alle 4, 2 minuti e 19 secondi erano finite le monete Io ero lì alle 16.00 Ho cliccato, ho scritto il mio dato, schiacciato invio... niente Erano già finiti i soldi Impressionante ragazzi Non so per quale motivo A già un minuto erano già partiti tutti gli ordini che dovevano partire purtroppo E... è andata così E' andata così Spero di riuscire a trovare un altro giorno Anzi andiamolo a vedere Qual è l'altro giorno disponibile per una nuova ICO Allora, prima di tutto come vedete ho depositato i miei, diciamo, 60 dollari di Ethereum E... andiamo a vedere informazioni sulla ICO Allora, purtroppo anche questa è sold out Assurdo ragazzi, è durata veramente veramente poco Anzi ve lo faccio anche vedere Si può vedere direttamente da qui E' partita alle 16, alle 16, 2 minuti e 19 secondi era già finita Non sono riuscito a fare niente, c'era assurdo Ero qui Ho cliccato buy Ho scritto 50, niente Non è apparso niente ma mi è arrivato 0 Vabbè E... è andata così Allora Ritorniamo sulle informazioni della ICO E le prossime ICO saranno il 24 Quindi dopo domani, sempre alle 4 E comunque continuo ad alzarsi Assurdamente E... niente Quindi io cercherò di farlo in questi due giorni in qualche maniera Non so come Perché onestamente mi sa che c'è bisogno per forza dell'accesso via computer Ma via smartphone non si può acquistare Ma andremo a vedere successivamente perché non ne sono certo di questa cosa Spero di riuscire ad acquistare perché sono interessantissime Poi se finiscono così velocemente significa che avranno un impatto assurdo sul mercato E' una delle motivazioni per le quali comunque uno compra le ICO è proprio perché più velocemente finiscono e più significa che andranno forte Il prossimo... la prossima release sarà di 500.000 token ancora E... rimarrà così fissa fino al 10 di dicembre 10 di dicembre che poi costerà 1.2 centesimi di dollaro E... cioè un dollaro e 20 centesimi Allora la prossima volta cercherò di rifare un'altra volta l'acquisto Cercherò sempre di acquistarne 50 Se è possibile acquistarne anche di più Magari anche di più Forse 70 potevo acquistarne già oggi E niente... l'aggiornamento per BitConnect è finito L'aggiornamento su Ucoin Cash è finito Spero vi sia piaciuto Spero di riuscire ad integrare Ucoin Cash nel mio portafoglio E... grazie per aver visto il video E al prossimo video aggiornamento